Sergio volevamo ricordarti in questa giornata piena di soli che è arrivata ci riempi il cuore di allegria e pensiamo così sarà il futuro per noi e per tutti voi volevamo mandarti per un saluto concreto e ti inviamo tutto un frammento importante dell'ultimo spettacolo che abbiamo fatto che ho fatto io la regia Giulia ha fatto il testo ed è la biografia di Mr. Peanut il personaggio che ha una testa da scheletro da morto e che ha girato il mondo con noi in questo spettacolo che si chiama un personaggio che non può morire si mostra come la vita sempre sempre vince soprattutto grazie alla memoria allora divertitevi per una mezz'oretta e ci vedremo sicuramente vi aspettiamo qui a Orsi Blu ce l'avete promesso ciao non vuoi dire qualcosa? grazie a tutti grazie a tutti